Sono molto contento di partecipare a questo progetto perché considero il compositore di cui in oggetto sicuramente il compositore più interessante del periodo classico e anche protoromantico. Sicuramente un compositore che spicca per avere in pochi anni di lavoro veramente abbracciato una vastità di tipi di componimenti che onestamente pochi altri e ovviamente anche sempre con l'occhio rivolto alla ricerca e alla sperimentazione. In un'epoca in cui ancora questi termini dovevano essere abbracciati, perlomeno in parte. L'opera 101 di Beethoven inaugura le ultime sonate per pianoforte dell'ultimo periodo della vita di Beethoven, l'ultimo stile compositivo. All'inizio del primo movimento abbiamo un'intestazione in tedesco, Miede Riemstein Enfenberg, che tradotta in italiano vuol dire con il più profondo sentimento. E' un movimento e una sonata fatta di melodie bellissime, una polifonia che si intreccia tra destra e sinistra. E addirittura abbiamo un particolare, quella che Wagner definì poi dopo e riprese tramite un concetto di melodia infinita. In questo primo movimento Beethoven usa le note, usa le frasi, il fraseggio e le melodie quasi come se fosse una ricerca dell'infinito, una ricerca di un qualcosa di parallelo, di universale. Man mano che si espande nella tastiera abbiamo un equilibrio sempre maggiore tra le parti. Avevo accennato prima al principe Lovkovitz, è celeberrima la scena in cui il principe si permette di fare una considerazione su un'opera minore di Beethoven e lui senza tanti complimenti molla una sberla al povero principe. Il principe gli fa notare appunto che è un principe, oltretutto un suo mecenate e Beethoven tranquillamente risponde, principi tanti, Beethoven uno. E quindi questo è il personaggio, è il personaggio che sapeva, sapeva, era profondamente consapevole della sua arte, del suo genio, ma è rimasto sempre comunque umile, è rimasto sempre umile di fronte alla musica. Lui considerava la musica al di sopra di tutto e lui semplicemente uno che faceva musica, musicante appunto. Vorrei concludere questo breve intervento ricordando l'ultimo movimento dell'ultimo quartetto, sostanzialmente il testamento di Beethoven, che termina con un pianissimo dove i musicisti del quartetto sono tenuti a sfiorare le corde e a fare sentire il soffio. Beethoven proprio in una sua nota, a tergo del manoscritto, come soffio, da proprio l'idea del testamento del genio, che si congeda con un momento anche di larità, perché Beethoven comunque era una persona anche divertente, era una persona anche piena di umorismo. E non sappiamo come sarebbe stata senza la tragedia della sordità. Sappiamo che comunque fino all'ultimo si è congedato in modo originale e assolutamente geniale, lasciando questo soffio sulle corde. Vi ringrazio.